Ecco, generalmente pubblico la mia ordinazione, non la inquadro eh, non ce l'ha, sono verdi queste, un po' taggiasche, un po' di queste, un po' di queste, il caramellato, cipolline il meno possibile per quella gastrite, quelli da cosa sono, carciofi? Carciofi grigliati ci sono, ah mi scusi che non l'ho visto, non l'ho visto, quelli in mezzo sono, carciofi, sempre quelli col gambo, un po' di col gambo, quanti pezzi, mi dici, due, uno, cos'è quel rosso là in fondo? Sono tre olive, sono quelle piccante, no, 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 quelle giardiniero, quelli là sono delle, sto pensando adesso, peperoni sono questi, eh uno dai, quindi un po' di queste, un po' di queste, il condimento, no cipolline guarda non più di due, solo due cipolline ma visto che vedo che c'è il balsamico, mettimene tanto, cioè basta quello, un carciofo, due peperoncini e intanto mi fermo va, al massimo ti chiedo dopo la giardiniera, quali formaggi, cos'è questa roba qua, ah queste sono le acciughe, ah scusa, fatti, 29, c'è il pecorino, non mi fai fazzire, l'altabadia, l'altabadia non lo conosco va bene, cos'è scusa, questo non lo conosco, forse non mi piace ma va bene, quindi altabadia, uno, due, va bene, un pecorino, un tartufo può andare bene, lo conosco, qual'è, ah uno di quelli, si è uno di quelli, no c'è il fiore sarto, qual'è il fiore sarto, quello lì, quello nero, no quello vicino, quello piccolino, quello in piedi, si, quello in piedi, ah scusi no, quello non mi fantasia, quelli piccolini di cosa sono quelli dietro, quelli di piccolino, quello lì sembra una crosta, quello piccolo il più piccolo lì in mezzo, si, è una crosticina, mi sa di sì, forse è una rimanese di, eh voglio quello, voglio quello, ok, anzi facciamo una roba, come a me piace la crosta, ripartiamo, voglio, vorrei, quello lì che sembra solo crosta, ok, poi visto che è piccolo, anche quello più piccolino c'è quello delle erbe pure, no le erbe non mi piacciono, l'erborinato non mi piace, quindi quelli due, quei due piccolini, piccolini, questo e questo, altabadia e sassoneo, no, quel piccolino, quel pezzo lì di altabadia, questo niente, questo no, ok, le tre cose piccole che ci sono già così, ok, va bene, grazie, ok, Ah, poi l'acqua naturale, sto guardando, non può, avendo il diabete non posso mangiare, non posso prendere i succhi di frutta, quindi mi prenderò, ok, niente dai, va bene così, va bene, grazie, scusa, sto guardando perché il mio piano era un altro, piacerebbe prendere questo e mangiare questo, ma chissà, grazie, naturale fuori frigo splendido, eh, la buttega, meravigliosa grazie a tutti 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 grazie a tutti